nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen meditiamo i misteri della luce ave maria grazia plena dominus tecum benedictatum scende nel silenzio l'ombra dell'altissimo cora tu sei madre di dio e dio dimora in te ave maria grazia plena dominus tecum benedictatum prima di ogni cosa luce dell'eternità ora tra noi risplenderà maria risplendente ave maria grazia plena dominus tecum benedictatum viene per il mondo viene tra gli uomini vita per chi l'accoglierà maria tu hai detto sì ave maria grazia plena dominus tecum benedictatum ave maria grazia plena dominus tecum benedictatum benedictatum cara e dolce mamma accetta questa nostra umile corona che ti offriamo secondo le tue intenzioni per la pace nei nostri cuori nelle nostre famiglie nel mondo intero fa un mamma che tutto il mondo ritorni al tuo rosario ricca fonte di grazie gloria al padre al figlio che allo spirito santo come era nei principi ed ora e sempre nei secoli dei secoli a me o gloria al gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia signore dio che per mezzo dello spirito santo diffondete il vostro santo amore sulla chiesa abbreviateci dolore del purgatorio che rendeteci sempre più degni della visita del paradiso cuore immaculato e addolorato di maria prega per noi e per il mondo intero primo mistero della luce il battesimo di gesù mistero cantato la voce dal cielo del padre d'amor invita all'ascolto del cristo signor ave 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 maria ave 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 maria lui l'innocente per eccellenza non si sottrae alla legge della pretenza e va in ubbidienza e umiltà a farsi battezzare si fa peccatore con i peccatori bisognoso di purificazione e uomo accanto ad ogni uomo che fa fatica che cade che pecca e l'aiuto a rialzarsi lo conduce al giordano della conversione della purificazione donandosi tutto a lui con amore infinito dal giordano inizia la missione di gesù e si apre il cielo si ode la voce del padre che dice questo è il mio figlio diretto ascoltatelo e insegna l'umiltà e l'ubbidienza al padre senza umiltà non c'è fede Dio si manifesta agli umili agli ultimi chiediamo a Dio questo dono per farci come lui dono agli altri padre nostro che se ne sceglie sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà con un cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indura in tentazione ma liberaci dal male amen Ave Maria piena di grazie Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen Ave Maria piena di grazie Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen Ave Maria piena di grazie Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen Ave Maria piena di grazie Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen Ave Maria piena di grazie Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen Ave Maria piena di grazie Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen Ave Maria piena di grazie Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta, frate donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nei principi e d'ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Signore Dio, che per mezzo dello Spirito Santo, diffondete il vostro santo amore sulla Chiesa. Abbreviateci dolore del Purgatorio e rendeteci sempre più degni della vista del Paradiso. Cuore immacolato e addolorato di Maria, prega per noi e per il mondo intero. Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Mistero cantato. La Vergine Maria si volge a Gesù, che l'acqua trasforma e divina e divina e divina. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. E' Maria che prevede e provvede, perché la gioia non si trasforma in tristezza. Sta per mancare il vino e nessuno se ne accorge. Maria partecipa e condivide l'evento, ma come buona madre, veglia perché la gioia dello stare insieme in quel giorno non sia turbata. Si accorge che ormai non c'è quasi più vino. Si rivolge al figlio. Non hanno più vino. Come dire, pensaci tu, è in pericolo la gioia di questi sposi. Quando il mistero del dolore ci coglia all'improvviso e la speranza sta per svanire. Quando siamo delusi dagli amici. Quando non possiamo più fare quello che facevamo una volta. Quando svaniscono le forze e crollano le certezze. Quando dobbiamo fare delle scelte importanti. Pensiamo alla risposta di Maria. E' la risposta della fede. Il cristiano non è l'uomo della tristezza, del pessimismo, che l'uomo che vede sempre una luce oltre il buio. Perché Gesù è venuto a prometterci una grande gioia. Il prezzo lo ha pagato a lui. Fate quello che lui vi dirà. Sono le parole che ci salgono. Preghiamo per fare bene la volontà di Dio. Padre nostro. Che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Si è fatta la tua volontà. Come in cielo o così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano. Che rimette a noi i nostri debiti. Come noi le rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria piena di grazie. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazie. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazie. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazie. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazie. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazie. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio. prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nei principi e d'ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Signore Dio, che per mezzo dello Spirito Santo diffondete il vostro sant'amore sulle chiesa, abbreviateci il dolore del purgatorio e rendeteci sempre più degni della vista del Paradiso. Cuore immacolato e addolorato di Maria, prega per noi e per il mondo intero. Terzo mistero della luce, l'annuncio del Regno. Mistero cantato. L'annuncio del Regno, ventiata e fede, che gioia e salvezza ci attende nel cielo. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Beati i puri di cuore, beati i miti, i perseguitati, gli operatori di pace, beati coloro che ascoltano la parola di Dio e lo osservano, beati quelli che credono senza vedere e la santità delle cose semplici ma fatte con amore. Essere santi non vuol dire non commettere peccati, ma pentirsi e ricominciare ogni volta. Dio ama l'uomo umile e pentito, gli rapisce il cuore, per lui fa miracoli. Maria esclama, Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, per questo tutte le genti la chiamano beata. Ecco la santità, occorre scendere, 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 quando invece tutti vogliono salire. Che il Regno dei Cieli è per chi discende, per chi si mescola con gli ultimi. Preghiamo, Gesù, mite ed umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Padre nostro che sia nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà come un cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra donne e vedete frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nei principi ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Signore Dio, che per mezzo dello Spirito Santo diffondete il vostro santo amore sulla Chiesa, abbreviateci dolore del Purgatorio e rendetemi sempre più degni della vista del Paradiso. Cuore immacolato e addolorato di Maria, prega per noi e per il mondo intero. Quarto mistero della luce, la trasfigurazione di Gesù. Mistero cantato. Gesù manifesta, gran luce e splendor, e il tabo si accende di grande chiaror. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. E' bello per noi stare qui. Possiamo tre tende, dicono gli apostoli incantati, dalla visione di Gesù risprendente. Ma la voce del cielo li riporta alla realtà, come nel battesimo. Questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. E allora bisogna scendere per obbedire al comando di Gesù. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Andate in tutto il mondo e portate la buona notizia. Io sarò con voi sempre, fino alla fine del mondo. Non possiamo ottenere per noi i doni che Dio ci ha fatto. Sono i talenti da far fruttare. Se abbiamo incontrato il Signore, dobbiamo farlo sapere a tutti. Più con la vita che con le parole. Dobbiamo farlo sapere con l'amore che ci brucia dentro. Col sacrificio, col dono totale di noi stessi, uniti al sacrificio di Cristo. Questa è la nostra fede. Ma occorre scendere dal monte delle nostre pretese, delle nostre ragioni e presunzioni, dei nostri pregiudizi, dell'orgoglio. Dio si rivela agli umili. Allora guardiamo gli altri con occhi nuovi e vediamo Cristo in ogni uomo, anche il meno amabile o il più grande peccatore. Perché Gesù ha dato la vita anche per lui. Preghiamo per capire e vivere questo amore totale. Padre nostro. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria, Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nei principi e d'ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore è Dio, che per mezzo dello Spirito Santo diffondete il vostro sant'amore sulla Chiesa. Abbreviateci il dolore del purgatorio e rendeteci sempre più degni della vista del Paradiso. Cuore immacolato e addolorato di Maria, prega per noi e per il mondo intero. Quinto Mistero della Luce L'istituzione della Santissima Eucharistia Mistero cantato Gesù ci conferma la sua presenza Nel pane e nel vino, eterna alleanza Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Prendete questo nel mio corpo, questo è il mio sangue. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me ed io in lui. Pane e vino, nutrimento semplice e quotidiano, scelto da Dio per stare con noi, per far comunione con noi. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, ha scritto San Paolo. Trasmetto questa presenza intorno a me, ricevo questo corpo e questo sangue come un dono? Spesso lo vado a ricevere senza gioia negli occhi, nel cuore, nell'anima. Tutti dovrebbero vedere sul mio viso la gioia di essermi nutrito di un pane di vino. E invece il mio atteggiamento è spesso quello dell'abitudine o dell'indifferenza. Ogni comunione mi dovrebbe trasformare la giornata in giornata per il cielo, con i piedi per terra. È un Dio che diventa carne della mia carne e sangue del mio sangue, per aiutarmi, consigliarmi, darmi forza. Forza di sorridere, di accogliere, di perdonare, di fare pace, di ricominciare, di farmi dono come Lui, insieme a Lui. Padre nostro, che se ne sceglie, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria piena di grazie, Signore con te. Tu sei preditta fra le donne e vedete il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, Signore con te. Tu sei preditta fra le donne e vedete il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, Signore con te. Tu sei preditta fra le donne e vedete il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria piena di grazie, Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nei principi ed ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia Signore Dio, che per mezzo dello Spirito Santo diffondete il vostro santo amore sulla Chiesa Abbreviateci dell'ora del purgatorio e rendeteci sempre più degni della vista del paradiso Cuore immacolato e addolorato di Maria Prega per noi e per il mondo intero Poi un segno grandioso Apparve in cielo Una donna vestita di sole Con la luna sotto i suoi piedi Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve A te ricordiamo noi su di figli di Eva A te sospediamo Giamente e piangenti in questa valle di lacrime Orso dunque, Avvocata nostra Rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi E mostraci il frutto del tuo seno Gesù Signore e pietà Signore e pietà Cristo pietà Cristo pietà Signore e pietà Signore e pietà Cristo ascoltaci Cristo ascoltaci Cristo esaudiscici Cristo esaudiscici Padre Celeste che sei Dio Abbi pietà di noi Figlio Redentore del mondo che sei Dio Abbi pietà di noi Spirito Santo che sei Dio Abbi pietà di noi Santa Trinità unico Dio Abbi pietà di noi O Maria Maestra di umiltà O Maria sei Madre di bontà Sei la Madre di Dio e dell'umanità Tu sei con lei che ha detto sì Sei la Madre di Dio e dell'umanità Tu sei con lei che ha detto sì Santa Maria prega per noi Santa Madre di Dio prega per noi Santa Vergine delle Vergini prega per noi Madre di Cristo prega per noi Madre della Grazia Divina prega per noi Madre Purissima prega per noi Madre Castissima prega per noi Madre sempre Vergine prega per noi Madre senza colpa prega per noi Madre amabile prega per noi Madre ammirabile prega per noi Madre del Creatore prega per noi Madre del Salvatore prega per noi Madre della Chiesa prega per noi Vergine prudentissima prega per noi Vergine degna di ogni lode Prega per noi Vergine potente prega per noi Vergine clemente prega per noi Vergine fedele prega per noi Modello di Santità prega per noi Capolavoro di Carità prega per noi Rosa mistica prega per noi Rosa mistica prega per noi Gloria della stirpe di Davide prega per noi Splendore di Grazia prega per noi Arca dell'Alleanza prega per noi Porta del Cielo prega per noi Stella del mattino prega per noi Salute degli infermi prega per noi Rifugio dei peccatori prega per noi Consolatrice degli afflitti prega per noi Aiuto dei cristiani prega per noi Regina degli angeli prega per noi Regina dei patriarchi prega per noi Regina dei profeti prega per noi Regina degli apostoli prega per noi Regina dei martiri prega per noi Regina dei confessori della fede prega per noi Regina delle vergini prega per noi Regina di tutti i santi prega per noi Regina concepita senza peccato prega per noi Regina assunta in cielo prega per noi Regina del Santo Rosario prega per noi Regina delle famiglie prega per noi Regina della pace prega per noi Nostra Signora dell'Urde prega per noi Nostra Signora di Fatima prega per noi Maria Regina delle vittorie prega per noi Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Perdonaci o Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Ascoltaci o Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Prega per noi Santa Madre di Dio E saremo degni delle promesse di Cristo Preghiamo O Dio che nella verginità feconda di Maria Hai dato agli uomini i beni della salvezza eterna Fa che sperimentiamo la sua intercessione Poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita Gesù Cristo tuo figlio e nostro Signore Amen O Maria maestra di umiltà O Maria sei madre di bontà Sei la madre di Dio e dell'umanità Tu sei con lei che ha detto sì Sei la madre di Dio e dell'umanità Tu sei con lei che ha detto sì In riparazione di tutti i peccati che si commettono nella Chiesa fondata da Cristo In riparazione per tutti i sacrileggi alla Santissima Eucaristia In riparazione per tutti gli oltraggi alla Santa Messa Alla parola di Dio ai comandamenti e ai sacramenti Padre nostro che siano i cieli Sei santificato il tuo nome Venga il tuo regno E sia fatta la tua volontà Come un cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci indurra in tentazione Ma liberaci dal male Amen Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Come era in principio e sempre Nei secoli dei secoli Amen Per la Chiesa cattolica sparsa nel mondo Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Per le vocazioni sacerdotali E per la santificazione dei sacerdoti e dei religiosi Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Per la persecuzione dei cristiani Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Per la conversione dei peccatori E lo scioglimento dei cuori più induriti Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Per la salute degli ammalati Specialmente di coloro che si raccomandano Alle nostre preghiere Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Per la pace nei nostri cuori Nelle nostre famiglie Nel mondo intero Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Ti benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Per il conforto di coloro che sono nel dubbio Nel dolore Nell'ansia O nella disperazione Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Per tutti i bambini del mondo Per la pace nei nostri cuori Nelle nostre famiglie Nel mondo intero Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Prega per noi peccatori Prega per noi peccatori Adesso è con te Adesso è nell'ora della nostra morte Adesso è nell'ora della nostra morte Ecco la serva del Signore Si compie in me la tua parola Ave Maria piena di grazie Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetta fra le donne E benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen E il verbo si fece carne E venne ad abitare in mezzo a noi Ave Maria piena di grazie, Signore contento Sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Prega per noi, Santa Madre di Dio E saremo degni delle promesse di Cristo Preghiamo Infondi, Signore, nostri animi a tua grazia E poiché con l'annuncio dell'Angelo abbiamo conosciuto L'incarnazione di Cristo tuo Figlio Concedi che per la sua passione e la sua croce Lungiamo alla gloria e alla risurrezione Per Cristo nostro Signore, Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Come eri in principio e sempre, nei secoli dei secoli, Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Come eri in principio e sempre, nei secoli dei secoli, Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Come eri in principio e sempre, nei secoli dei secoli, Amen Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fai affidato dalla Chietà Celeste. Amen. L'anima mia magnifica è il Signore, è il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i supermi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele e il suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di consagrazione al cuore immacolato di Maria, Nostra Signora di Fatima. Vergine di Fatima, Madre di Misericordia, Regina del Cielo e della Terra, Rifugio dei Peccatori, noi, aderendo al Movimento Mariano, ci consacriamo in modo specialissimo al tuo cuore immacolato. Con quest'atto di consagrazione intendiamo vivere con te e per mezzo di te tutti gli impegni assunti con la nostra consagrazione battesimale. Ci impegniamo altresì ad operare in noi quell'interiore conversione tanto richiesta dal Vangelo e ci libera da ogni attaccamento a noi stessi e ai facili compromessi col mondo, per essere come te, solo disponibili a fare sempre la volontà del Padre. E mentre intendiamo affidare a te, Madre dolcissima e misericordiosa, la nostra esistenza e vocazione cristiana, perché tu ne disponga per i tuoi disegni di salvezza, in quest'ora decisiva che grava sul mondo, ci impegniamo a viverla secondo i tuoi desideri, in particolare per quanto riguarda un rinnovato spirito di preghiera e di penitenza. La partecipazione fervorosa alla celebrazione dell'Eucaristia e dell'Apostolato, la recita quotidiana del Santo Rosario e da un austero modo di vita, conforme al Vangelo, che sia a tutti di buon esempio nell'osservanza della legge di Dio, nell'esercizio delle virtù cristiane, specialmente della purezza. Ti promettiamo ancora di essere uniti alla Santa Chiesa fondata da Cristo, e a tutti i sacerdoti e vescovi fedeli a Cristo, così da porre una barriera al processo di contestazione del Magistero che minazza le fondamenta stesse della Chiesa. Sotto la tua protezione, anzi vogliamo essere gli apostoli di questa, oggi tanto necessaria unità di preghiera e di amore alla Chiesa fondata da Gesù. Infine, ti promettiamo di condurre le anime con cui verremo a contatto, in quanto ci è possibile ad una rinnovata devozione verso di te. Consapevole che l'ateismo ha fatto naufragare nella fede un gran numero di fedeli, che la dissacrazione è entrata nel Tempio Santo di Dio, che il male e il peccato sempre più dilagono nel mondo, possiamo alzare fiduciosi gli occhi a te, Madre di Gesù e Madre nostra misericordiosa e potente, e di invocare ancora oggi e ad attendere da te la salvezza per tutti i tuoi figli, o clamente, o pietosa, o dolce Vergine Maria. Sono tutto tuo, Maria. Sono tutto tuo, Maria. E tutto ciò che ho è tuo. E tutto ciò che ho è tuo. Sì, tu mi aguita in tutto. Sì, tu mi aguita in tutto. Sono tutto tuo, Gesù. Sono tutto tuo, Gesù. E tutto ciò che ho è tuo. E tutto ciò che ho è tuo. Sei tu il mio maestro e il mio sostegno in tutto. Sei tu il mio maestro e il mio sostegno in tutto. Ti saluto, o mia Regina. Tutto il mondo a te s'inchina. Tutto il mondo illuminaste con il frutto che portaste. Ti saluto, Regina mia. Ti saluto con l'Ave o Maria. Ave o Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore immacolato e addolorato di Maria, prega per noi e per il mondo intero. Cuore immacolato e addolorato di Maria, prega per noi e per il mondo intero. Cuore immacolato e addolorato di Maria, prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Immacolato cuore di Maria, immacolato cuore di Maria, sei luce via, sei luce via, sei luce via, ai tuoi figli qua giù, sei luce via, i tuoi figli qua giù, i sacerdoti a te consacrati, i sacerdoti a te consacrati. Guarda con amore, stringili al tuo cuore, falli somiglianti al tuo figlio Gesù. Guarda con amore, stringili al tuo cuore, falli somiglianti al tuo figlio Gesù. I fedeli a te consacrati, i fedeli a te consacrati. Raduna in tua schiera, preparata a battaglia, perché trionfi presto l'immacolato tuo cuore. Raduna in tua schiera, preparata a battaglia, perché trionfi presto l'immacolato tuo cuore. Quando verrà la nostra ultima ora, quando verrà la nostra ultima ora. Vieni non tardare, vieni non tardare, vieni non tardare a portarci in Cielo. Vieni non tardare, vieni non tardare, vieni non tardare, vieni non tardare a portarci in Cielo. Vieni non tardare, vieni non tardare, vieni non tardare, vieni non tardare a portarci in Cielo.